Dal 15 novembre ad oggi praticamente abbiamo vissuto la stragrande maggioranza dei nostri giorni tra la zona arancione e la zona rossa, ma nonostante questo noi vediamo ancora una curva in crescita, ma soprattutto un numero dei sintomatici e asintomatici che è elevato. La settimana scorsa eravamo spesso se non sopra al limite dei 700 giornalieri. Questo ci fa pensare e mi fa pensare che le misure debbano essere comprensibili ai cittadini perché il rischio è che poi i cittadini non ci seguano più. Abbiamo proposto certezza da qui a qualche mese e noi vorremmo avere una chiarezza anche per poter capire e comprendere bene quella che è la posizione della nostra regione, questi famosi 21 indici e capire e comprendere bene perché non è un solo semplice indice che può classificare una regione, perché un indice può essere il frutto di un focolaio ristretto che però magari condiziona poi tutta la regione. Quindi vorremmo capire e comprendere bene quanto incidono le strutture ospedaliere. Ecco, credo che sia un ragionamento che ci debba accompagnare in maniera costruttiva da qui ai prossimi mesi finché non usciremo in via definitiva da questa situazione. Rischiamo la zona arancione e addirittura quella rossa. Ma guardi, questo è difficile dirlo. Io rispetto ai dati della scorsa settimana abbiamo i positivi sintomatici, sono all'incirca gli stessi, proprio qualche numero superiore alla settimana scorsa. Quindi parliamo di una curva epidemiologica che da una settimana all'altra ha mostrato praticamente una differenza di uno o due in più giornalmente. Questo denota il fatto che non c'è stato un input, c'è stata una crescita anche su tanti asintomatici, però gli asintomatici che noi riscontriamo oggi sono oltre il doppio di tamponi rispetto al mese di ottobre e novembre. Quindi c'è pure da dire che noi stiamo facendo una grande azione di tamponamento e di ricerca dei positivi. Quindi sono elementi che vanno letti nel contesto giusto e vanno letti in maniera complessiva perché ogni dato risponde a una logica in cui noi lo leggiamo, lo interpretiamo e lo inseriamo.